Gesù è il pastore, la porta della vita eterna, lui ci indica il cammino e ascoltando la sua voce non sbaglieremo mai la strada. Questa è in sintesi l'omelia pronunciata da Papa Francesco alla missa a casa Santa Marta. Commentando il Vangelo del giorno, quasi una eco del passo del buon pastore, il pontefice si è soffermato su tre realtà fondamentali della vita cristiana, la porta, il cammino e la voce. A tutti è chiesto di seguire sempre l'esempio del figlio di Dio, diffidando da quanti contrabbandano la verità. Chi segue Gesù non sbaglia. Eh padre, sì, ma le cose sono difficili. Tante volte io non vedo chiaro cosa fare, ma mi hanno detto che là c'era una veggente e sono andato là o sono o sono andato dal tarotista che mi ha tirato le carte. Se fai questo non segui Gesù, segui un altro che ti dà un'altra strada diversa. davanti. Lui davanti indica il cammino. Non c'è un altro che possa indicare il cammino. Gesù, Gesù ci ha avvisato. Verranno altri che diranno il cammino del Messia è questo, è questo. Non ascoltate. Non sentire loro. Il cammino sono io. Se Gesù è porta, è anche il cammino. Se seguiamo Lui, non sbaglieremo. Signore. Grazie a tutti.